Eccomi ragazzi, scusate, è che oggi non sono abituato ad arrivare così presto nella puntata Comunque, dicevate, l'ospite di oggi è uno forte Allora, ci hanno detto che, ora ci devono ancora dire chi è esattamente, però è un nazionale Ha 90 presenze con la sua nazionale Ha giocato 90 partite con la sua nazionale Ha giocato tante volte a Wembley Con chi? Con la Spagna? No, no, no Non è a Spagna? No, no Wembley-Inghilterra Vabbè Wembley con l'Inghilterra Neanche l'Inghilterra No ragazzi, però ha giocato con Ragazzi, è San Marino Ah certo San Marino San Marino Crochetta La puntata numero 51 di Crochetas, benvenuti Ciao Matteo Palmigiano Ciao Marco Russo Oggi con Simone Gamberini, ciao Gambero Ciao, ciao ragazzi È una crochetta di Gambero eterna, lunga tutta una puntata Come Martín Palermo L'eterno L'eterno E oggi è una puntata veramente speciale Io non so da dove cominciare Matteo Vitaioli, ciao Bellissimo averti con noi Ciao a tutti Ma che dico Matteo Vitaioli Il recordman di presenze con la nazionale di calcio di San Marino Quante partite hai giocato tu con la tua nazionale? 90 Nessuno più di lui Nessuno più di lui Queste sono le nostre puntate Sì Sì Noi viviamo per queste puntate Posso dire? È facile avere Hernanes Cioè io voglio sapere Questa è la puntata più esaltante tra le 51 di Crochetas Mi fa molto piacere Io veramente non so da dove cominciare Muoio dalle curiosità Sono qui a posto Veramente La cosa più Intanto presentiamo Matteo Matteo sei un trequartista Fantasista Un attaccante Giochi per La Fiorita La Fiorita Esatto Classe 1989 Abbiamo fatto i giornalisti Abbiamo fatto la scheda Esatto La Fiorita naturalmente Che è uno dei club del campionato di San Marino Esatto Quante squadre hai ci sono al campionato? 16 Quest'anno 16 Hanno aggiunto una squadra quest'anno Di giovani sanmarinesi Per far crescere un po' il movimento Quindi erano un disparo fino all'anno scorso Ma quest'anno hanno aggiunto queste squadre qua E siamo pari, tondi Come si chiama questa squadra? San Marino Academy Ah bello È fatta solo da under 21 se non sbaglio Tutti di San Marino 90 presenze con la nazionale di San Marino Sei appunto il recordman con distacco Perché chi sta dietro Dietro c'è Andy Selva E Mirko Palazzi Che ha sorpassato l'ultima partita a 74 Parleremo di Andy Selva Perché ci abbiamo Noi ci abbiamo una cosa dentro Mentre Mirko Palazzi No, Mirko Palazzi lo salutiamo Salutiamo Rispettiamo Ma poi scusami Ha ganciato Andy Selva No, possiamo anche non rispettarlo No, no Salutiamo e rispettiamo Mirko Palazzi Che significa giocare per la nazionale di San Marino? Eh, è una domanda un po' complessa No, è un'emozione grande Come penso giocare ogni partita Ma per la nazionale di San Marino E vederla a propria bandiera Sventolare in stadi Che non avrei mai visto altrimenti È una cosa che riempie d'orgoglio Io ho ancora questo ricordo Di aver visto mia mamma In tribuna a Wembley Con i miei zii E questo ricordo Non me lo toglierò mai dalla mente Per me è una delle emozioni più grosse Che si possa vivere Stadio pieno Io cercavo la bandiera di San Marino Dei miei parenti là In curva Ha fatto un'emozione molto grande Mi sono emozionato anch'io Ti giuro Anch'io veramente Ci ha portato un po' di maglie Gamber Guarda le belle Queste sono belle Questa è fresca Contro il Kazakistan Fresca di gol Di festeggiato Perché ne parliamo È un momento storico Per San Marino Dopo ci arriviamo Veramente storico Veramente un momento storico Anche sui festeggiamenti Poi magari ne parliamo Perché c'è un po' di Sei croccante? Eh Ma leggo L'antica terra della libertà Sì Cioè come mai? Perché siamo arrivati In una repubblica E viene chiamata La repubblica più antica del mondo E quindi hanno messo questo Brio sulla maglia Per dare un altro mondo Certo Questo è un richiamo Che trovate sul colletto Cioè all'interno colletto Della maglia Ma geografia Quanto è grande San Marino? Eh Un quartiere Precisamente non mi ricordo Sono sincero Però si può paragonare A un quartiere Un piccolo quartiere italiano Diciamo Ok Popolazione di 33.000 abitanti Ok Considerando che molti Sono bambini Molti sono anziani Ci sono le donne E quelle che giocano a caldo Siamo rimasti in pochi Non ti buttatevi Non vi buttatevi 33.000 abitanti Più o meno Veramente un quartiere Di una Media città italiana Che poi E' proprio questo poi Forse il concetto Di senso di appartenenza No? Cioè vi conoscete tutti Più o meno Naturalmente Però Deve essere particolare Questa cosa No Quelli che giocchiamo a caldo Ci conosciamo tutti Praticamente Perché Anzi Molta gente Esce anche insieme Durante la vita quotidiana Però Diciamo che Anche di 33.000 persone La maggior parte Se di vista Magari non di persona Ma ci si conosce Quasi tutti E' un po' Non dico fuorviante Però Voi quando scendete in campo Ovviamente Scendete in campo per vincere Quella è la domanda Per una nazionale Che oggettivamente E lo sappiamo Non può competere con l'Inghilterra Ne con tutte le altre Neanche lontanamente Scendete in campo per? Noi L'obiettivo è sempre quello Di provare a vincere Poi chiaramente Ci diciamo Si parte 11 contro 11 La palla è tonda Ha due gambe come noi Però Chiaramente Ci cerca sempre di Specialmente nelle partite Quelle di Un po' più Un'avversaria Un po' più Importanti Di Limitare il passivo Mentre con quelle piccole Abbiamo visto che ultimamente Possiamo toglierci Delle soddisfazioni Il momento storico Ci arriviamo dopo Però Ovviamente Quando parliamo di calcio A San Marino E di anche nazionale San Marino Non parliamo di professionismo Per la maggior parte Dei casi No Non parliamo di professionismo Perché Nazionale La maggior parte Lavorano Di professionisti Ce ne sono solo due In questo momento Due che giocano Nell'Olbia Due ragazzi giovani Molto bravi E Quindi Possiamo dire Che di professionisti Al momento Ci sono solo loro due Tutti gli altri Comunque giocano Chi in serie D Chi In eccellenza Ho la maggior parte Nella campionata San Marinese Quindi Hanno tutti un lavoro Oltre al calcio Certo Quindi tu Matteo Che lavoro fai? Io faccio il grafico In un'azienda Di San Marino Alla SIT Facciamo Imballaggi Di plastica E carta Ogni tanto Adesso stiamo provando E Questa è la mia giornata Quotidiana Prima del calcio Ma ti interessa Magari Lavorare per un podcast Se fosse vicino Se fosse vicino Mi valuti queste grafiche Queste grafiche qua Sebastiano Barbanna Attento Bel lavoro Bel lavoro Ma in che senso Imballaggi Cioè In che senso Praticamente Non so Si può fare il nome Perrero Ci manda la grafica Del Kinder Bueno No No Prendiamo questa grafica La adattiamo Ai nostri canoni Di stampa E poi mandiamo la stampa Per le varie milioni di lingue O milioni di promozioni Che fanno sul Kinder Bueno Il 3x2 Il 2x3 Il pacchetto da 5 Quello da 1 No no Aspetta Quindi Quindi in pratica Il bambino della Ferrero Che stava nei Kinder Maxi L'hanno fatto diventare famoso loro Esatto E soprattutto La merendina Che trovate Nella macchinetta Potrebbe Averla Stampata Il record band Di presenza nazionale Di San Marino Matteo Vitaio È così Non mi prendo i meriti di stampa No Io magari L'hai messa un po' a posto L'hai disegnata L'hai messa un po' a posto Il merito della stampa Incredibile 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 Bellissima Bellissima Come c'entra il calcio Cioè come Fai entrare il calcio Nella tua attività D'azienda Che ti impegnerà Alle ore Di un normalissimo lavoratore Io Mi ritengo anche fortunato Perché comunque Ho un lavoro Che alle 5 e mezza 6 Magari finisce Quindi mi permette di andare A fare allenamento dopo Mentre molti ragazzi Devono comunque Adattare un attimo Chiedere al capo Se può uscire Per masso Quindi io fortunatamente Ho il mio orario E quindi esco Se riesco Vado a casa Faccio un attimo Due pratiche a casa E poi preparo la borsa E vado Anche perché adesso sei Più impegnato Adesso sono più impegnato Infatti Faccio un po' più pratica A casa Cerco di arrivare un po' più E andarmi un po' dopo Ma gli allenamenti quanti sono? E da quest'anno Io ho detto Vado a San Marino Che ci sono un po' Ma gli allenamenti Invece da quest'anno Sono quattro allenamenti Più la partita cinque Quindi Te lo facciamo vedere noi A quelli che dicono Ah San Marino Si allena un po' Ti è Quattro allenamenti Puoi fare il regolo nazionale Esatto Possiamo dai annunciarlo Che abbiamo l'ospite più giovane Di Crochettos Presente in studio E dietro le telecamere La piccola Anna Vita Jodi È una meravigliosa bimba Che squadra tifi? Io tifo Inter Però non gioca a San Marino Devi dirmi No tifo No scherzo Inter Inter A Fiamorino la fiorita In questo momento Tifoso dell'Inter Da sempre Giocatore del cuore Da sempre Giocatore del cuore Ne ho Un'infinità Vai 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 Il classico a Zanetti Per essere proprio umili Però Ronaldo Come si fa a non dire Ronaldo Certo Perché siamo spezzati un po' il cuore Andare al Milan Ma vabbè Ma li hai incrociato Io come no Giocatori dell'Inter Giocando contro Il nazionale Io ho voglia C'ho anche un piccolo aneddoto Che un po' Mi vergogna dirlo Però vabbè L'Inter ha vinto Triplete nel 2010 Noi a maggio Vinto Triplete E noi O giugno Mi ricordo E noi a settembre Giochiamo contro l'Olanda Chi c'era nell'Olanda? Wesley Snyder Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Vabbè Giochiamo la partita Normalmente Prendiamo un po' di gol Mi aveva preso 5-6 gol E Entrando negli spogliatoi Io ero Piccolo rispetto ai miei compagni Di squadra E ho detto Io voglio la maniare di Snyder Tutti i costi Voglio la maniare di Snyder Allora Mi ricordo ancora che Davanti alla spogliatoia dell'Olanda C'era un po' di fermento Io Sono passato sotto le braccia Tra le gambe Non mi ricordo di chi Dei miei compagni O comunque di gente lì davanti Magazzinieri così Mi sono trovato dentro Lo spogliatoio a San Marino Nel loro spogliatoio C'era Snyder lì Ho detto Posso avere la tua maglia? Lui Si gira La prende Me l'ha presa Me l'ha sommessa E sono scappato Non ti hai detto una parola Pensavo che sono andata Quella di De Jong Sono scappato Quella di Brafai Bello 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 Veramente Abbiamo mille domande Scusaci Matteo Molte saranno anche Veramente stupide Ci dirai Non c'è problema Per la prima persona Di San Marino Che io Mi fa piacere Sì Sono stato a San Marino Non è incrociato nessuno No C'è con cui parlo Sono stato Ero piccolo Alle medie Tra l'altro Veramente Benvengano questi aneddoti Tipo Snyder Tutti quelli che hai Raccontaci Perché noi pendiamo Dalle tue labbra No Pendiamo da queste storie Ma tipo Cioè Io Io calciatore Di medio livello Posso giocare Io italiano Posso giocare Per la Nazionale Di San Marino Domanda che mi fanno Spesso Ma no Perché comunque Ci vuole il passaporto Sanmarinese Ci vuole la cittadinanza Sanmarinese E non è così facile E non è così facile Averla Ok Quindi o sei nato a San Marino O hai parenti Sanmarinesi O se no Devi sposare una Sanmarinese E tarci insieme Credo adesso Dieci anni Non vorrei sbagliare Ma Non è poco Non è poco Se consideri che Comunque l'attività Di un calciatore Parte dai Diciott'anni Comunque Anche dieci anni Di attesa L'esordio Poi farà Ventott'anni Sì È una buona cosa Comunque mio padre È italiano Quindi io avrei potuto Giocare anche per l'Italia Però Ho preferito San Marino Perché dai Perché mi chiamo Era troppo facile No però tecnicamente San Marino San Marino Mamma è San Marino Papà è San Marino Non potresti giocare Cioè No Ok Se sei nato A San Marino Però io credo Che un parente italiano Lo troviamo Lo trovano gli argentini Esatto Si trova un parente Ci sta Ci sta Ecco tipo Cevoli Avevamo controllato Che era naturalizzato San Marino Roberto Cevoli Esatto Difensore Ex Modena Tra le altre Che però poi Non ha mai giocato Per la nazionale Non credo C'è suo figlio Adesso che gioca Michele Che gioca in nazionale È un nostro pilastro Grande Grande 90 presenze Con la maglia Di San Marino Esordio Quando l'hai fatto? L'esordio è stato Nel 2000 2005 Avevo 17 anni Vediamo se lo ricordo E vorrebbe essere 2005 contro il Galles Non vorrei sbagliare Che storia Secondo me è giusto L'avevamo controllato Sì è vero Dal 2005 Ha una carriera incredibile Quindi c'era Lunghissimo C'era Giggs C'era Bale Io mi ricordo Che ho questa foto 2005 C'era Bale Sì sì C'era Bale Alla mia età È esordito la stessa partita Che ho esordito io Carriera diversa dopo Ma Beh è la tua più lunga Tu hai esordito Nella prima partita Di Bale Ma stai scherzando Veramente Se non mi ricordo male Così E mi ricordo Che ancora Questa foto Che mi avevo fatto Perché ancora Non c'erano nomi Sulle maglie Ci siamo io e lui Tipo faccia a faccia Non so per quale motivo Però E lui Cappello lungo Proprio Erano due bambini Diciamo Cioè vi siete scontrati Sì 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 C'è stato tipo un attimo Faccia a faccia C'ho ancora questa foto Nella mente E anche nel telefono Credo Ma nella mente Allora stavo andando a recuperare Confermo Allora un po' più È un po' più in là In realtà È 2007 Ah ok Ok 17 ottobre 2007 Però proprio contro il Galles 2 a 1 Esatto 2 a 1 2 a 1 Sì Butta via Butta via A Serravalle Giocato Esatto A Serravalle Bello bello Ecco qua Ma con quanta gente Ha giocato Matteo Itaioli Matteo Palmigiano Ne abbiamo recuperati un po' Vabbè Hai appena detto giustamente Gareth Bale Tra l'altro Raccontandoci Questa Quest'unerito pazzesco E ora Io ti cito un po' di nomi Magari nei altri Su questi giocatori Per dire Abbiamo visto che hai giocato Contro il Belgio Sì C'era un Courtois Sì De Bruyne Sì Cioè tu hai affrontato De Bruyne a centrocampo Esatto C'è qualcosa da dirci Di questa sfida Ma Io sono convinto Quando sono venuti da noi Erano un attimo Perché Mi sembra se non mi sbaglio Il primo tempo 0-0 avevamo fatto Quindi erano arrivati Un attimo Adagiati Diciamo Però Però dopo Quando hanno stato Un attimo Il giro dei motori Si vedeva Che hanno una qualità Che Vedere da vicino È veramente Impressionante È tanta roba Impressionante proprio C'era Luca qui In panchina In quella sfida Poi vabbè Naturalmente Hai giocato anche Contro l'Italia Sì Due volte Due volte Diciamo Pirlo sicuramente C'era in campo A Bologna Sì E poi Buffon Sì C'è Courtois De Bruyne Pirlo Buffon Sì Poi Snyder Snyder l'abbiamo detto Bellissimo Vampersi anche in quella sfida Che segnò un paio di cose Se non sbaglio Ibraimovic Hai giocato contro Ibra Sì Ti ha dato una gumitata In faccia Era all'Inter Era al Milan Il Paris Saint Germain Era all'Inter Credo se non sbaglio Ma di Ibra Ho un adeduto Anche questo Che mi ricordo Che eravamo in Svezia A giocare E partita Dove stavamo andando male Credo E ha avuto un contrasto Con un nostro compagno E si alza Per chiedergli scusa E poi questo mio compagno Gli fa la battuta Ma sai Noi dobbiamo un po' Arrangiarci in queste maniere Un po' così E lui fa No Voi non dovete dire così Voi dovete pensare Di essere i più forti Perché è così che migliorate Allora te ne do un'altra Che spettacolo Ibra Impurezza Ti fa capire la sua mentalità Curto Atebrouin Pirlo Buffon Snyder Van Persie Ibra In Inghilterra Sei andato a giocare a Wembley In Inghilterra tre volte Ho giocato Tre volte a Wembley Io una mi sono fatto male Quindi a Wembley non sono andato Però due volte a Wembley Quindi tipo Runei Maglia di Runei Esatto Dici un po' di maglie Maglie sono un appassionato Anche perché i miei compagni Adesso Ho uno status Per farmi dire No no Io voglio quella maglia lì Quindi quella gliela chiedo io Sceglie prima Matteo Vitaio 90 presenze Dica per caso Svitando l'Inghilterra Mi viene in mente I sorteggi di FA Cup Che c'è la squadra piccola Che quando prende la big Stanno tutti sul divano E esplodono a festeggiare Quando ci sono i sorteggi Le qualificazioni Voi vi radunate Le guardate Qual è la nazionale che volete Sicuramente Quelle di prima fascia Quando si beccano quelle top Sei sempre felice Perché comunque vai a vedere Stadi che Nazionali Giocatori E poi magari cerchi Perché il nostro team manager Cosa fa ultimamente Facciamo un toto Nel gruppo della nazionale Un toto a Gironi Ora Ognuno dica il suo girone Vediamo chi ne becca di più E chi ne becca di meno Paga la pizza E allora Dai Comunque si cerca sempre Di voler beccare la nazionale Quella più forte Quella dove sei il campione O dove sono i campioni Chi ti manca? Chi vorresti beccare Che non hai ancora incontrato? Sinceramente Non avevo beccato ancora La Spagna e la Francia Sono due nazionali Che mi piace Ma intanto la Francia Sta andando morbida Con le squadre Di bassa faccia Esatto E che li capisco Li capisco Quei ragazzi Quando si prendono Quelle goleade Capisco cosa ne si prova Certo Però Da un certo punto di vista Poi si dice sempre Che il modo migliore Di rispettare l'avversario È giocare al Al cento per cento Certo Cosa ne pensi? Da fuori lo dico anch'io Poi quando sono lì Un attimo Dico Se frenate un attimo Un attimino Dai venti minuti prima Ci si può fermare Va bene Però è bello raccontarlo Alla tua prospettiva Cosa No no Io Sono dell'idea Che comunque è giusto Per rispettare Che ognuno vada Al massimo Nel suo livello Infatti Molti dicono Quando giocate Con quelli nazionali grandi Molti fanno il turnover O molte Non con No Quando noi giochiamo Con l'Inghilterra Davanti c'era Runei Quando giocavamo con la Svezia C'era Ibrahimovic De Bruyne era in campo Cioè Giochi contro C'è la nazionale Fa giocare Chi in quel momento I migliori Certo Quindi Anche perché spesso Contano differenze reti Di ranking Che possono fare la differenza In altre situazioni Non nella partita stessa Ma poi Ho un Lukaku O comunque anche Un giocatore a meno di Lukaku Che dice Ho fatto 15 gol Quest'anno in nazionale Dopo A fine anno Non vanno a vedere Che ne ha fatti Magari 4 con San Marino Sì sì certo Sì sì E poi anche La Confederations Cup In cui si qualifica Tahiti Che la Spagna Non è che C'era un Torre e Sevilla Ha detto No oggi Oggi mi siedo Gioco Perché insomma Record di gol in nazionale Comunque Fa curriculum Certo Però veramente Sintetizzando Giocare per San Marino Significa Fare un lavoro normale Lavorare in un'azienda Sacrificarsi Allenarsi E poi andare a giocare Contro Ibra Contro Runei Contro Bellingham Perché ho giocato anche contro Bellingham È bella anche questa cosa Non era Bellingham Adesso Certo Porto come esempio L'adesso team manager Simone Baciocchi Da nazionale Che ai tempi Diede una gomitata A Lewandowski Su una palla alta Gomitata E Lewandowski Caduto Replay Dopo Abbiamo visto i replay Gomitata Che sembra da me Probabilmente Non sono più qua Lewandowski però Da giocatore Non si lamenta Si rialza Munito Giocatore E riparte la partita Invece Con la Danimarca L'ultima partita C'è stata un'entrata Un po' fuori Dai limiti Però Neanche tanto Perché altrimenti Col VAR L'avrebbero chiesto fuori Un'entrata un po' dura Stiamo giocando a calcio Su Oliund Di Maio E Roberto Un'entrata Forse un po' fuori dagli schemi Però Dopo questa entrata L'hanno presa un po' come Volete farci male Volete farci male E hanno tirato avanti un po' Quando alla fine È stata una partita Normalissima E che probabilmente Loro hanno Avuto un po' paura Perché comunque Ci erano portati Solo uno a uno Eh sì Ci erano un attimo Agitati Dopo Hanno fatto il secondo gol Però dai Non hanno fatto Secondo me Una bellissima figura Non hai chiesto la maglia Alla fine No Però Attenzione All'andata Ho preso la maglia di Eriksen Interista Giusto Giusto Dicevamo del momento Storico Per la nazionale di San Marino Perché per la prima volta In questa Tornata di qualificazioni Avete giocato tre partite E per la prima volta San Marino Ha segnato in ciascuna Di queste tre partite Tre gol consecutivi Nella pluricentenaria Storia No meno No meno Ma comunque Siamo su quegli anni lì Di San Marino Non era mai successo La nazionale Segnarsi in tre partite Di fila Avete fatto la storia Eh sì Diciamo Abbiamo scritto una pagina Diciamo Di questa Di questa lunga storia È stato bello Perché Già all'inizio Ti dici Vai Facciamo un gol E siamo già felici Poi mi ha fatto Il secondo gol di fila E abbiamo detto Abbiamo Fatto già Il record Eguagliato il record Di due gol di fila C'è solo una volta Nella storia di San Marino E poi ha detto Stasera Proviamo a fare il terzo Così passiamo proprio Alla storia E all'ultimo minuto Rigore Aspettato E quella questione poi Esultanza Che c'era un compagno Che diceva Vabbè ma a questo punto Pareggiamola Allora Partiamo dal presupposto Che noi Quando facciamo un gol Su qualsiasi risultato Esultiamo Ma tutti È bellissimo Guardate Chiunque Tutti Ultimamente meno Perché comunque Come se ci fossimo Un attimo abituati No Anche con la Nation League Siete diventati presuntuori Presuntuori Esatto No perché con la Nation League Comunque abbiamo Partite Più abbordabili Quindi partite Contro nazionali Dove si può fare gol Si può pareggiare Si può anche pareggiare Come abbiamo fatto con lì Che sta Entrando gli spogliatoi Incazzati neri Perché Dovamo vincere Quindi dai Ci siamo un attimo abituati A queste partite così E quindi Non è come una volta Che facevano solo Le qualificazioni Quindi Molte erano batoste E quando facevi il gol Tipo Io ho fatto il gol Dopo quella volta È stata Dopo 14 anni Fuori casa un gol È venuto giù il mondo Su punizione Perché tu hai segnato In nazionale Sì È bella anche Credo che Togliendo la nascita Di mia figlia È stata A livello calcistico L'emozione più grossa Della mia vita Quello è poco Ma sicuro Perché Com'è stato Il racconto Praticamente Eramo in Lituania Giocavamo fuori casa E stavamo perdendo 1-0 C'è stata questa azione Di contropiede Dove Danilo Rinaldi L'attaccante Che giocava Che giocava Come la ferita Ora Che giocava in nazionale Ha scartato il portiere Ultimo uomo Portierlo a terra Punizione Espulsione del portiere Entra il portiere Di riserva Punizione dal limito Ha calciato Accanto alla barriera Si è infilata E da lì Si è persa un attimo La bussola Per qualche minuto Non so come Perché c'è anche mio fratello Che gioca in nazionale Ha giocato Fino a due anni fa Ha giocato anche in nazionale Dalla difesa Non so come Era il primo Ad arrivare a risultare Sopra di me E poi c'è questa foto Io ho chiesuto Con mio fratello Fabio Accanto a me E poi dopo Ci hanno sommerso Tutti i compagni Dalla panchina È stato Poi il gol del pareggio Storia 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 Diciamo dei record Ne avete fatti tanti record In questo giro Sì Il Puma li ha preparati tutti Vai Dobbiamo ringraziare Un grande thread Che abbiamo trovato su Twitter Che ci ha aiutato moltissimo Perché su Twitter Cioè ci sono pagine Ma da migliaia Quasi 200.000 follower Che raccontano San Marino Hai visto? Siete seguitissimi Siete Grandi Tutto l'account spagnolo Argentini Per questa cosa Dell'importanza dei gol Che ci raccontava Matteo Perché in effetti Filippo Berardi Che era diventato Il secondo miglior marcatore Della storia di San Marino È anche il secondo miglior Berardi Della storia del calcio Ce ne sono un po' di Berardi Con due gol Al pari di Manuel Marani Quindi due gol Sei già Il secondo record Man di gol Il vice Esatto Però Ragazzi È impossibile arrivare Probabilmente Ad agganciare Il grande Andy Selva Con otto gol L'eterno Molto difficile Perché tutti gli altri Invece sono a quota 1 C'è Matteo Quanto era forte Andy Selva Andy era molto forte Io ho avuto Il piacere Di vederlo giocare Io ancora Ho negli occhi Questo gol Fatto Con la Slovacchia In casa Di un lancio Di 80 metri Da un nostro difessore Tipo un calcione Più un lancio Lui la stoppava Contro qualsiasi nazionale Lui la stoppava La metteva giù E ci faceva salire Di 50 metri Stoppa palla Esterno campo Punta il difessore centrale Se la sposta sul destro E a giro sotto l'incrocio Dall'altra parte Io ero in panchina E abbiamo perso la testa Perché è facile Per Allegri Adesso avere Braovic Ma una volta L'attaccante di Max Allegri Era Andy Selva Alla spalla Al Sassuolo Al Sassuolo Due volte Era proprio lui Grande Andy Selva E ha lasciato un ginocchio Purtroppo Lui ha avuto Questo infortunio In nazionale Che lui era Mi sembra proprio A Sassuolo In B Ha avuto Questo infortunio Al ginocchio E dopo Comunque Un attimo L'ha rallentato Perché Comunque L'ha avuto Un po' di ricaduta Ecco Lui è uno Dei naturalizzati Appunto Visto che è nato a Roma Lui è nato a Roma Però ha parenti di San Marino Quindi Ma parla romano? Parla romano Adesso lo stiamo un attimo Mettendo la S Come la mia Un po' marcata Grande Ma parla romano Bello Bello Le 90 presenze Di Matteo Vitaio Li toccate In questo Obiettivo 100 Obiettivo 100 O secondo gol Cosa? Tutte e due Tutte e due Sa che ci siamo Si puoi scegliere? Non lo so Secondo gol Secondo gol Un altro record Così aggiungi un altro record Secondo gol Occhio però Perché abbiamo detto anche prima C'è anche Mirko Palazzi Sto Mirko Palazzi Sto Mirko Palazzi Mi è venuto male Chiedo scusa Non soffendere È il villain di questa storia Lo trattate malissimo Mirko Palazzi Ma non solo qui Ma anche Nel Ben E il tuo compagno di camera? Il mio compagno di camera Che è l'ultimo Ha voluto cambiare Ma dopo Questo è un altro discorso No però Ma ti può venire a prendere Sto Mirko Palazzi Perché a 70? 74 4 O 5 con l'ultima Che ha fatto il film È più vecchio di me 18 anni di nazionale Tra l'altro 18 anni Perdendo la cittadinanza sammarinese Tutto questo Sto Mirko Palazzi Perché era persa? Perché praticamente Doveva decidere Se tenere la sammarinese O l'italiana Arriva una lettera a casa A te un anno Per dire Ok Accetto la sammarinese E lui è arrivato A questa lettera E per un anno Ci ha pensato E tu ne hai approfittato E quindi lui è rimasto Per due anni Senza poter giocare nazionale E dopo la ripresa Però per due anni È stato Ma allora il tuo record È figlio Della cenzia Delle entrate Sanzi C'è anche un po' di kombucha Esatto In questo momento Saremo pari Quindi Mirko Palazzi Stai attento Perché è ancora lunga Questa sfida Perché secondo me Non vuole mollare Non vuole mollare Ma io sono contento Alla fine È un amico Quindi spero È un amico Però Spero che vada avanti Come la crocchetta di oro È un amico È un amico Invece Il Gambro sicuramente Ci dirà qualcosa dopo Su Aldo Simoncini Portiere storico Il buffon di San Marino Possiamo dire così Tornato a giocare Una partita nazionale Dopo quattro anni Sessantacinque presenze Portiere con più presenze La storia di San Marino Aldo è stato La nostra colonna Per un sacco di anni Nostro numero uno Adesso Ha avuto due anni Dove Non è stato chiamato In nazionale Adesso è tornato E Si gioca al posto Con Elia Bendettini Che è l'altro portiere Che abbiamo E l'ultima È stata fatta fare Aldo È sempre un punto Di riferimento Per noi Perché oltre a essere Un gran portiere È anche una brava persona È uno proprio Uno dei leader Del nostro gruppo Diciamo Ma ha mai parato Un rigore Adesso non mi ricordo Quale a chi Ma secondo me Ha parato qualche rigore nazionale Bello Grazie Però le cose sono cambiate Diciamolo anche Da quando è arrivato Fabrizio Costantino Sulla panchina Di San Marino Perché è l'allenatore Con la miglior media Gol subiti Nella storia Della nazionale Cioè è il momento d'oro Della nazionale Di San Marino Potremmo dire così Perché la media è solo Di 2.35 gol a partita I numeri precedenti Erano Erano molto più alti Tre volte più alti Sì sì Quindi State vivendo Un momento No Stiamo vivendo Un buon momento Speciale Ci sono Molti ragazzi Giovani e bravi Che stanno Crescendo Due ragazzi Come ho detto prima Giocano all'Olbia Nanni e Fabri Sono Due giocatori Che secondo me Faranno carriera Perché anche mentalmente Sono pronti Per Quella nazionale Aiuta anche Perché comunque Una volta che giochi Contro quelle giocatori forti Poi comunque torni Dal tuo club E giochi con giocatori Dicino Hai un attimo mentalmente Anche la forza Per dire Posso vincere questo contrasto Posso fare questa cosa Ma anche tanti altri ragazzi Che magari Hanno iniziato a lavorare E sono rimasti a San Marino Vedi vari grandoni D'Addario Lunadei Zafferani Questi ragazzi qua Cito perché Hanno piacere E perché Comunque sono ragazzi Che lavorano Crescono E Saranno il futuro Della nazionale Uomo spogliato Matteo Vittaglioli Non si mistica nessuno Il nostro famosissimo Ormai Alessandro Golinucci Che ha fatto gol Con la Danimarca È stato in copertina Per Giustamente Ognuno Io dico Auguro a tutti Perché Io avendo fatto gol So cosa Dopo si prova Comunque dai Che fa piacere Comunque essere Visto Chiamato Così E quindi Io auguro a tutti i ragazzi Veramente di Almeno fare un gol Perché comunque Fa piacere Essere comunque Chiamato Visto E notato Bello Si gioca per quello Tra l'altro Quella è l'esultanza Per chi ci sta seguendo In video Del gol Proprio contro La Lituania Esatto Quello si è proprio Un urlo Contro Cessnauskas Siamo andati a cercarlo Il portiere di riserva Gamberò Tu che sei Molto vicino Al mondo sudamericano Mi ricordi Quanti gol Ha segnato A novembre Il Brasile Ha segnato poco Uno Mi ricordi Quanti gol Ha segnato L'Argentina A novembre Ha segnato poco Due Mi ricordi Quanti gol Ha fatto San Marino A novembre Tre Ah No era solo Fredda Cronica Bella Sul tavolo Ecco ma tipo Dopo questi super record Il giornale di San Marino Come titola Tipo la mattina Vi criticano anche Paradossalmente Il giornale di San Marino San Marino Adesso ultimamente Molti ragazzi Vengono a vedere la partita E fanno tifo E fa un sacco piacere Certo E infatti io Quando posso Quando non l'ho scambiata La maglia Spesso la regalo ai ragazzi Perché Fa piacere vedere Però Non è che ci sia San Marino Tutto questo gran Interesse Della nazionale Da parte esterna Ma neanche dopo Questi record Ecco Forse dopo Queste partite qua Ci vede un po' più gente Allo stadio Così Ma prima Sì Se giochi contro l'Inghilterra Lo stadio è pieno Se giochi contro la Germania Lo stadio è pieno Però se giochi contro La Moldavia Non c'è nessuno Non c'è tanta gente Io ho due curiosità Parto con la serie Ma la Nations League Quanto vi ha cambiato Quanto vi è servita Perché Dalla prospettiva Dei club Di fascia più alta Viene vista anche un po' come In generale Un po' come De Bruyne se non sbaglio Ha detto che era Qualcosa Di dannoso Per voi Per noi Sicuramente è una cosa Che ci fa crescere Che ci fa crescere Tanto Perché comunque Facciamo partite Dove ce la giochiamo Dove possiamo Comunque Non solo difendere Ma attaccare Cercare di Di mettere La nostra idea In campo E di far vedere Cosa siamo capaci a fare E quindi Anche mentalmente Ti porta A vedere A non sempre Guardare indietro Ma guardare avanti E quindi Secondo me Questa Nation Ci ha aiutato Tanto 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 E poi l'altra curiosità È meno seria Penso sia una delle partite Anzi due delle partite Più random Che io abbia mai Non visto Ma insomma Come accoppiamento Di nomi Proprio Nella storia Del calcio Voi avete fatto Delle amichevoli Con le Seychelles E contro Santa Lucia Isole Caraibiche E quella con le Seychelles Sono venuti loro Questa è una cattiveria Cioè San Marino Seychelles San Marino Santa Lucia Santa Lucia L'anno scorso A novembre Mi hanno preso Questo aereo Per i Caraibi Che tutti si immaginano Sì Andate a fare una vacanza I Caraibi No Alla fine è stata Mica brutto però No no Ci mancherebbe Però Scordiamoci l'Europa Scordiamoci L'organizzazione europea L'organizzazione È un paese Ancora molto indietro Dove Un esempio Ci dicevano Per andare al campo Ci mettete 20 minuti Eravamo dopo un'ora In pullman Ancora Ma c'è traffico A Santa Lucia Sono strada Però Sono delle esperienze Bellissime Che livello Avete trovato? Livello Allora Tecnicamente Diciamo che il livello È più basso Di quello europeo Ha rapportato Alle piccole squadre Quindi a noi O a una Zibilterra Un Lichtenstein Però chiaramente Atleticamente Pedalano Vanno forte E anche nei contrasti Scontri Così Hanno Un più prossimo Sì Hanno un bel Un più random Della storia Avete in programma Anche qualche altra Sfida del genere Non so Ma da quanto mi hanno detto A marzo E a giugno Dovremmo fare Quattro amichevoli E non ho capito Se c'è qualche nazionale Esotica Esatto In giro Potreste andare C'è ancora Moriero Alle Maldive Infatti È ipotizzata Anche questa cosa Sono stato Zambia Solo posti Però con il mare bello Ma ci torniamo volentieri Molentieri Sì Molto volentieri La sperta extraeuropea È solo in posti Se c'è il mare bello Ma se è possibile Certo Perché no Perché no Tornando alla maglia In Tibet In Tibet un po' più scomodo All'Nepal Sì Dicevo della maglia Perché Matteo Ci raccontavano Che lancia la maglia Quando magari Non riesce a scambiarla Eh quanto è bello vedere Non so In giro Non so se ti è capitato In giro Passeggi per la città Per San Marino Un ragazzino Con la maglia Vitaglioli 7 Eh quelle sono Sono quelle cose Per cui si gioca calcio Diciamo Almeno io personalmente Sono quelle emozioni Che non ti dà Sono quelle quotidiane E vedere anche un ragazzino Che esco da fine partita Magari che si salia sul pool Ma il ragazzino E il cancello Dopo un'ora E io infatti Delle volte Magari i pantaloncini Da gioco Così Li porto a casa Perché magari Qualche mio amico Li vuole E quando sono tutti i ragazzini Lì al cancello Dopo un'ora Che aspettano Non possono dargli Anzi L'ultima partita È successo Con il casacchista In che c'erano 20-30 bambini No Matteo Mi piange il cuore Non potergli dare A tutti Una cosa Un oggetto Un qualcosa Ma in qualche modo Pian piano Una alla volta Ci riuscirò Bellissimo Io oggi potrei piangere Un'altra volta Vi giuro È veramente una puntata Fantastica La puntata in cui La crochetta De gambero È una crochetta De gambero eterna Però gambero È il tuo momento Cosa facciamo? La lanciamo Vogliamo far lanciare A Matteo Puoi dirlo se vuoi La crochetta De gambero La crochetta De gambero Mentre il mondo Va roto lì Io me la godo Con crochetta Dove ci porti Caro Gambero Caro Simone Gamberini Abbiamo visto Posti esotici Qui Seychelles Qualcosa un po' più Terra di gamberi Tra l'altro Possiamo dirlo Assolutamente Volevo riportare Però in Perù Perché Non so come sono Le rivalità San Marino Il rivale di San Marino L'ho chiesto Ma anche nei try club Il Frankenstein Dai Beh tra i club Di San Marino Ci sono diverse rivalità Perché comunque Alcuni sono proprio Lo stesso San Marino Sono i castelli Non sono provincia Quindi due squadre Lo stesso castello E il derby C'è la rivalità Quindi Ci sono diverse rivalità Anche tra Tipo la Fiorita La Fiorita Mi viene da dire Fiorita Tre Fiori Fiorita Faetano Che potrebbe essere Un derby E poi ci sono I big match Fiorita Tre Penne Super classico Super classico Ma è la nazionale rivale Cioè quelli che dici No Giochiamo Eh Sinceramente Adesso C'è l'Igdenstein 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 Scherza Tipo quelli del Tre Fiori Quando hanno fatto il post Per prendere Dani Alves Esatto Che avevano detto Guarda questi Ridicoli Che fanno Queste Catalan Ha fatto il preliminare Con la Fiorita Esatto Sì Gambero Scusa Ma ecco Le rivalità di San Marino Del Castello Mi piacciono Volevo portare Una storia Dal Perù Di rivalità Perché si è giocata Queste settimane Marco Lucio Già ride La finale Tra Le squadre Principali Del Perù Ossia L'Universitario De Porte La squadra Diciamo Di Vargas Ok Il Loco Vargas E l'Allianza Lima Ok Per chi volesse Un giocatore di riferimento La squadra di Farfan Anche Guerrero No? Il giocatore Ecco Si è giocata questa finale In casa Della Allianza Lima Solo che era la finale Per decidere il titolo E l'ha vinta All'Universitario Quindi ci puoi far poco Hanno vinto in casa tua Però I festeggiamenti Sono tutti da fare Quindi che cosa hanno fatto I tifosi Si giocava di sera Stacchiamo le luci No Al buio E ha festeggiato al buio La storia è incredibile Perché appunto Mi sono messi d'accordo Ormai la partita è andata Però Chi me lo impedisce Di Festeggiamento al buio I giocatori Sono rimasti Non abbiamo vinto Festeggiamo al buio Peggio degli innaffiatoi Del Barcellona Già durante la partita C'era stato Insomma Qualche Qualche episodio Di cronaca Ecco Poi però Si era risolto tutto E al finale Ho detto Vabbè dai Al buio Che forse è meglio Magari non so Se col tre fiori Avete Staccato le luci Perché lì A fine Nessuno A San Marino Nessuno gioca in casa Nessuno gioca fuori Quindi Tutti i campi di tutti Quindi non c'è questo problema Quanti stadi Continuo con le domande Random Cioè Stadi Non è che ci sono 16 stadi No Ci sono Se non sbaglio Sette campi Tutti sintetici Oltre allo stadio Il stadio Quello di Serravalle E' lo stadio nazionale Esatto E' sintetico No E' erba Sì 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 Mentre tutti gli altri Sono sintetici Gli erano fatti E non c'è Un campo Dove è proprietario Uno O proprietario dell'altro A turno Si gira Anche perché Si allena su quei campi Certo Si allena Metà campo per uno Quindi Non c'è caso che Io a Fiorita No aspetta Questo lo sapevo Che potrebbe interessare Aspetta Come funzionano Gli allenamenti Praticamente In base ai castelli Ognuno ha il campo Più vicino E Esempio Trefiori E Fiorentino Si allenano Nello stesso campo Ma c'è caso Che la domenica Devono giocare contro Però purtroppo Il calcio è questo Qui mettono Tipo Le sagome Nella barriera Provano un modo di sbagliare Non esiste la pretattica No No E quando vi incrociate Cosa fate? Ciao Ciao Cos'è La fine Ci si conosce tutti Oggi abbiamo provato Lui c'entra avanti Gioca lui Giochiamo a tre Davanti Questo weekend E quando il pallone L'altro campo Cioè l'altra meta Al campo Palla Palla Come al campo Bello È così Ma Una domanda così Che volevo fare Ti dicevo anche In preparazione Ma il Monte Titano Non so Mi piace Cioè Sorge proprio tutto Sul Monte Titano Sul Monte Titano Ci sono le tre torri Di San Marino Che sono diciamo Quelle che si vedono Anche da un po' più lontano E c'è la città Con le mura Che è la capitale Di San Marino Tutto dentro le mura E poi a scendere Tutto il resto Della città Ai piedi del Monte Titano Si vive bene A San Marino Si vive molto bene Molto tranquillo Io ci sono stato Mi ricordo Alle medie E ho questo ricordo Dimmi se mi ricordo male Mi ricordo una quantità Incredibile Di negozi Credo nella città Di San Marino Che vendevano balestre Si Balestre Spade Spade Di ogni Si 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 Legato un po' Questa tradizione medievale Si perché a San Marino Comunque è una tradizione medievale Ci sono anche I balestrieri di San Marino Ci sono anche Gli bandieratori di San Marino Bello E poi d'estate Fanno un tipo Delle giornate medievali A San Marino O comunque anche Nei circondari San Leo Montefeltro Quindi ci sono Tutti i paesi Diciamo medievali Intorno Continuo con le cavolate Veramente Mi staranno odiando Quelli di San Marino Ma esiste un piatto Tipico di San Marino No No Lì ci basiamo Molto sulla cultura Romagnola Romagnola Una delle mie cucine preferite Infatti a Dani Alves Avevano offerto la piadina Una delle mie cucine preferite Per distacco Si 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 Che bomba Grazie veramente Grazie a voi Noi andiamo a venerli una volta Ci inviti Matteo Siete ospiti Quando volete venire Guarda Molto molto volentieri Andiamo veramente Io voglio vedere il sorteggio E' bello Potremmo fare uno specialino Speciale San Marino Giocherete con Beccate la Francia Speriamo Speriamo Trucchiamolo Trucchiamolo Vi meritate Una frase Un Mbappé Sì Un po' di Giroud Un po' di Turam Un po' di Turam Per te esatto Tu vorrai la maglia di Turam Vabbè C'è un Mbappé Va bene 90 presenze Decidi tu Bravo Visto che siamo in chiusura Ci hai detto Magli presidi Snyder Ericsson Lukaku Andanovic Runei Boateng Andanovic Un tiro in porta Gli l'hai fatto No non credo Siamo arrivati Dell'Inghilterra Ne ho veramente Alexander Arnold Lampard Perché dopo Delle volte Quando si esce Ne prendono anche due Ma tu l'hai già avuta No no L'ho dato a un mio compagno Dell'Olanda Di kite Di Veramente Sei un bel cultore Sei un bel nerda Mi piacciono molto Grande In casa non me le fanno Mentre da nessuna parte Ma troviamo Ma se tu vuoi Noi qua le stiamo Te le teniamo noi Comunque è uno di crochette È uno di noi È uno di noi Matteo Vitaiori È uno di noi Grazie davvero Grazie a voi Perché ci siamo divertiti Tantissimo Tantissimo In questa bella chiacchierata Grande puntata Ci vediamo la settimana prossima Ci vediamo la settimana prossima E ci salutiamo Con un bel Cumbia E ci vediamo la settimana